Torna il testa a testa fra Letta e Meloni, i DEM hanno il 21,5% dei consensi ma perdono qualcosa mentre FDI guadagna lo 0,5% e si attesta lì dietro al 20,7%. La supermedia dei sondaggi politici di Utrend dice che è tornato il testa a testa fra Enrico Letta e Giorgia Meloni, con i loro partiti che sono gli unici sopra il 20%. Il Partito Democratico è ancora primo nel gradimento attuale degli italiani ma Fratelli d'Italia si rifà sotto e lo tallona di poco. I DEM hanno il 21,5% dei consensi e ne hanno perso 0,1% rispetto a una settimana fa. La formazione di Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,5% e si è attestata al 20,7%. Testa a testa fra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Le due formazioni sono quindi ufficialmente divise da meno di un punto percentuale, 0,8%. Terza la Lega che terza lo è da mesi e che scende ancora, il partito di Matteo Salvini è al 16,6% e regala 1,0,7% rispetto a sette giorni fa. Non fa eccezione il Movimento 5 Stelle, che scende ancora di 1,0,5% e arriva al 13,4%. I Pentastellati e il Carroccio in tandem sono passati dal 50,1% del 2018 ad un risicato 30%. Quarta formazione Forza Italia, che pur essendo scesa ancora ed arriva all'8,2% dei consensi, perde 1,0,3% rispetto all'ultima rilevazione ma sembra aver definitivamente superato lo stallo che per mesi l'aveva tenuta intorno al 7%. Grazie a tutti.